Sì Evo l'judi, da Rieno It's done C'è un'espomente, da je t'le prikol'ca T'le Sì Sì T'le v reči so ostal' stiropora Nekaj obloge Tol' je ostal' ho fatto una foto ho deciso di fare qualcosa in slovenne video in modo in time non so no non so ne so no si ne sede ne so no in modo in modo in modo in modo in modo un mio di mano vittoria amelio ma non c'è un palcino non c'è anche l'angelo non c'è anche l'angelo qual'è è l'idea? trovare, come ho detto in primo video trovare un poc la camera ho potuto poi qui qui non è non mi sembrava non mi sembrava per farlo per farlo che si tratta poi si tratta poi vediamo cosa è il questo sembrava bene la ponte è rostata ma penso che è poco scinca lo so questo più il potere prima questo ci proprio non di so questo prima di sesso il comodo gli ho preso l'ho là qui la parte di questa. ... ... non ne ho capito non ne ho capito non si chiama non ce la è la cosa sono felice mi sono felice perché l'unico non è un'altro si era un'altra si è l'altro ho finito un po' di nuovo ho sentito che... non so, non so, non so, non so, ho sentito che si lo vedi con un progetto quando fai qualcosa di una zona si è inoltre un po' di nuovo e non so, 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 poi ho fatto una volta quando ho fatto qualcosa di più di più quando ho fatto una volta, in cui si è iniziato poi poi stai iniziato e poi si è iniziato in questo modo non vediamo la parte di meditazione poi la parte di lottini poi la parte di spettacolo poi la parte di spettacolo anche la più meditero o più meditero così come ho capito come ho capito adesso adesso non so non so non so non so non so non ma non so non so se lo metto quindi non so perché non so che si si il dolore Non lo so come, non lo so che ho fatto. Non lo so, non lo so, ma non so. Ma che cosa ne so, non lo so, non lo so, non lo so. Chi si non so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, è tutto. Mi raccomando. Grazie a tutti.